Salve a tutti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Si parla di rinnovi di contratto, ma udite udite, per la prima volta la parola rinnovo non è sinonimo di brutta notizia per noi milanisti, perché a breve dovrebbero arrivare dei rinnovi molto 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 importanti. Passiamo al primo che in ordine temporale sarà per l'appunto il primo secondo me ad arrivare, ovvero quello di Stefano Pioli. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, siamo praticamente all'arrivo. Pioli e il Milan hanno trovato l'accordo sulla base di un biennale da 3 milioni di euro a stagione, quindi il Milan prolunga il contratto al suo allenatore e programma il futuro ancora una volta con Stefano Pioli. Allora, partiamo da un presupposto secondo me abbastanza importante. Io avrei aspettato comunque la fine dell'anno per farlo, però è indubbiamente un rinnovo sacrosanto, cioè comunque parliamo di un allenatore che ormai ha la fiducia di tutti nell'ambiente, alla fiducia dei giocatori, alla fiducia della dirigenza, alla fiducia della proprietà, produce un buon calcio, valorizza i giocatori, valorizza i giovani, riesce comunque a proporre quasi sempre un Milan di ottimo livello nonostante le tante tante assenze. Quindi ragazzi, secondo me è impossibile non ammettere che Pioli in questo rinnovo se lo sia più che meritato. è chiaro che in molti chiaramente verranno a scrivere eh ma io comunque a fine anno per fare il salto avrei provato a prendere Guardiola. Ragazzi, inutile che sto a puntualizzare diciamo l'ovvio, no? Il Milan allo stato attuale non si può neanche lontanamente avvicinare a quegli allenatori lì, di conseguenza se avvicinarsi a Guardiola è impossibile, con tutto il dovuto rispetto, io Pioli non lo cambio. Quindi Pioli ad un passo e Pioli, il rinnovo di Pioli ad un passo, ma non solo, perché entro Natale il Milan vorrebbe portare a termine altri tre rinnovi di contratto estremamente importanti. Non sto parlando di che sì, che lo ripeto, ormai considero più fuori che dentro, ma sto parlando di Ben Nasser, Leao e Theo Hernandez. Tutti e tre dovrebbero rinnovare fino al 2026. Chiaramente per tutti e tre ci dovrebbe essere un aumento dell'ingaggio particolarmente sostanzioso. Theo Hernandez ovviamente è il caso più, non più urgente, ma è il caso diciamo più importante, perché dei tre secondo me è il giocatore che allo stato attuale potrebbe ricevere offerte da club molto molto importanti europei. Di conseguenza blindarlo è una scelta più che saggia. Theo dovrebbe avere lo stipendio stando a quello che si dice praticamente raddoppiato, quindi il Milan gli sta rinnovando il contratto in maniera diciamo abbastanza sostanziosa, ma è sacrosanto ragazzi, è giusto anche perché parliamo di diciamo i... allora faccio il demo cristiano perché verranno altrimenti i detrattori qui sotto a rompermi il cazzo. Parliamo di uno dei terzini più forti del mondo, di conseguenza un rinnovo di questo tipo è praticamente l'unico modo con cui il Milan può blindare questo calciatore. Su Benazer invece il rinnovo sarà sempre fino al 2026, anche lui secondo me riceverà un cospicuo aumento dello stipendio, però secondo me non siamo ai livelli di Theo Hernández. Faccio una previsione anche se è presto per dirlo, secondo me Theo firmerà un rinnovo intorno ai 5 milioni di euro a stagione, proprio sto volando... cioè io credo che si andrà più o meno su quelle cifre. Per Benazer le cifre dovrebbero essere più basse, credo che non si arriverà nemmeno ai 3 milioni se devo essere sincero. Per quanto riguarda Leao invece è tutto un po' in divenire allo stato attuale, principalmente per un motivo. Leao ha uno stipendio basso, molto molto basso, è un giocatore che allo stato attuale interessa chiaramente a molti club europei, ma paradossalmente tra i tre è quello che allo stato attuale ha più offerte. Principalmente per un motivo, perché un Theo Hernández per forza di cose, visto il livello del giocatore, può essere conteso soltanto dai club più importanti al mondo. Cioè un Theo Hernández allo stato attuale può interessare soltanto a squadre come il PSG, il Manchester United, il Manchester City. Sono queste le squadre che possono ambire a Theo Hernández. Uno come Leao, visto l'ingaggio basso e visto soprattutto il fatto che è esploso relativamente da poco, non come Theo che è tre anni che fa i buchi, ma Leao è dall'inizio dell'anno che ha iniziato a girare su livelli molto molto alti. Chiaramente Leao avrà più offerte, perché anche le squadre di livello un po' più basso sondano il terreno per cercare di capire se ci possono essere dei margini per trattarlo. Ricordo che quest'estate il Milan ha ricevuto offerte anche superiori a 30 milioni di euro per Leao, ma le ha sempre rifiutate. Quindi anche Leao rinnoverà. Fino a qualche settimana fa addirittura c'era un giornale portoghese che parlava del possibile inserimento di una clausola rescissoria nel contratto di Leao. La Gazzetta non ne parla. Il Milan, almeno fino ad ora, non ha mai inserito delle clausole rescissoria nei contratti dei suoi calciatori, però chissà. Va ricordato che Leao comunque è del giro di Orge Mendes, di conseguenza è un giocatore che, diciamo, deve essere trattato con altri parametri per ovvi motivi. Però il succo, insomma, è che entro Natale tutti questi rinnovi dovrebbero essere fatti. Per quanto riguarda Romagnoli, riportiamo quello che ha detto Alfredo Pedullà. Pedullà dice che la priorità di Romagnoli e il Milan è che la Juventus allo stato attuale ha soltanto chiesto informazioni per cercare di capire, insomma, quanti margini ci sono per un eventuale spostamento e quali possono essere le cifre di un eventuale contratto. Io lo ripeto, credo che il Milan un tentativo per Romagnoli lo farà, anche più di uno, però il discorso è abbastanza chiaro. Romagnoli deve accettare una diminuzione dello stipendio, un abbassamento dello stipendio, cioè perché allo stato attuale prende 5 milioni e passa e chiaramente il Milan a queste condizioni il contratto a Romagnoli non glielo rinnova mai. Quindi bisogna capire anche quale sarà la richiesta di Alessio. Ma comunque per quello ci sarà tempo e ragazzi fatemi sapere qui sotto con un commento che cosa ne pensate. Vi ricordo anche tutti i link che potete trovare in descrizione, cheicauccio.com, eccetera eccetera. In questo momento c'è il Black Friday, quindi promozione attiva e prezzi molto molto bassi. Ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione, sempre Forza Milan e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ah, rimanete sintonizzati perché potrebbero arrivare delle sorprese. Grazie.